Da più parti ad Agrigento, tra la gente di centrodestra, veniva auspicata una unità dello schieramento al fine di scegliere un candidato unico in vista delle prossime elezioni, a sindaco della città. A lanciare tale input è stata l'onorevole parlamentare regionale Giusi Savarino, che è anche presidente della Commissione Ambiente, che nel corso di un'iniziativa lanciata ad Agrigento sotto il periodo natalizio, per l'esattezza lo scorso 21 dicembre, La forza delle idee, le tue proposte per la città, svoltasi a Porta di Ponte, in via Tenea, invitava i cittadini ad esprimere un loro parere sulla prossima candidatura a primo cittadino e a suggerire anche delle proposte per migliorare la città, iniziativa che fu ben accolta dai passanti, che hanno così liberamente espresso i loro pareri. Oggi si rendono note tale idee, la parlamentare agrigentina ha dichiarato infatti, tante sono state le proposte raccolte, molta più gente ha preferito soffermarsi più sulle idee che sulla scelta dei singoli candidati. I temi segnalati soprattutto quelli ambientali e quelli per implementare il parco archeologico della Valle dei Templi. Per ciò che riguarda la scelta del candidato sindaco, per la Savarino maggiore inclinazione è stata espressa verso Marco Zambuto e qualcuno anche sull'attuale sindaco Lillo Firetto. Per l'onorevole Giussi Savarino del partito del presidente Musumeci un prossimo screening verrà fatto e successivamente nel corso di una nostra assemblea cittadina faremo la nostra scelta. Giussi Savarino sarebbe bello individuare una candidatura comune a tutto il centro-destra e questo si allineerebbe sia con le scelte politiche e regionali del presidente Musumeci che anche su quello che vorremmo fare a livello nazionale. Le dichiarazioni dell'onorevole Savarino sono state ben accolte dal parlamentare azzurro Riccardo Gallo che condivide la coesione del centro-destra proposta dalla parlamentare di Ravanusa una coalizione ad hoc anche ad Agrigento come quella che sostiene il presidente della regione Nello Musumeci. Per Gallo bisogna concordare un comportamento univoco della coalizione senza fuga in avanti quindi uniti sia diventerà bellissima l'Udc, Fratelli d'Italia, la Lega e le liste civiche che si riconoscono nel progetto del centro-destra. Anche il capo di gabinetto vicario dell'assessore regionale al turismo Lillo Pisano di Fratelli d'Italia ha accolto positivamente l'appello all'unità del centro-destra lanciata da Giussi Savarino per offrire alla città una candidatura unitaria e affermando accolgo e rinancio anche la proposta dell'onorevole Gallo per offrire ad Agrigento una proposta unica che faccia riferimento al centro-destra con il coinvolgimento di tutti i partiti e i movimenti che vi si riconoscono.